Il Paese sta ricominciando a ripartire dopo una fase molto negativa, è necessario che si avvicini ai livelli di sviluppo europei e quindi quello che è stato fatto deve essere ancora più incrementato, deve essere più sviluppato attraverso la necessità di adeguare sia con strumenti legislativi ma molto anche applicativi alla capacità degli italiani di fare impresa e alla capacità dell'Italia di attrarre nuovi investimenti solo attraverso l'unione di questi due elementi noi potremo sicuramente arrivare ai livelli di crescita consone a questo Paese.